Ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube come sempre una buona serata a tutti voi ringrazio tutti voi che mi seguite sul mio canale ringrazio i nuovi iscritti io farò sempre del mio meglio per portarvi a vincere e questa sera da questo quadra estrazionale e vince una cosa importantissima e posso dire cosa vi avevo detto vi avevo detto che il 90 sarebbe arrivato all'inizio di ottobre in maniera molto prepotente molto forte e questa sera ne sono arrivati ben 1 Cagliari Genova e Napoli ben 3 90 cosa vi avevo detto di giocare molto bene il 90 di Bari Cagliari perché era fortissimo prima cosa che avevo detto seconda cosa avevo detto prendete le mie spie la spia 66 di Bari questa del 14 settembre questa dal calcolo portava il 90 di Cagliari all'ultimissimo colpo questo oggi esce il 90 a Cagliari e si porta dietro l'Ambosecco 94 non so quanti l'abbiano vinto perché diverse persone avevano questo metodo molti hanno fatto orecchie da mercante quando io in ogni analisi estrazioni ho insistito dicendo prendete le spie perché sono forti unica ruota soltanto 5 ambisecchi modalità vincita avvenuta vi do il metodo il regalo da un orecchio entra e dall'altro esce io non so che cosa voi giochiate sinceramente perché andare a perdere delle vincite del genere qui si ma qui c'è un problema di base qui si manca di si manca di costanza si manca di fiducia e in questo modo non si vincerà mai perché bisogna avere costanza sui metodi costanza sulle previsioni molta gente si scoccia molla salta da una previsione ad un'altra in continuazione e così si va a disperdere soltanto l'investimento e non si becca un tubo io spero che tra quelli che hanno il metodo una sola persona non dico tanto proprio mi accontento una sola persona abbia vinto il 4 90 su Cagliari perché vi posso far vedere poi la giocata vi farò vedere la spia vi faccio vedere come c'è l'ambo 4 90 3 5 ambi in gioco c'è l'altra spia quella che porta il 90 a Bari attenzione perché è probabile che anche quella andrà a pagare quando quando vi dicono i video prendete le previsioni prendete i metodi vanno presi vanno giocati perché sono forti non è la prima volta che con le con le mie spie che portano il 90 noi andiamo a vincere quando vi porto dai metodi spie 90 secco a ruota lo andiamo a beccare c'è poco da chiacchierare lo andiamo a stravincere quindi attenzione perché c'è la spia che porta il 90 a Bari questa sera esce il 15 a Bari di ancora un segnalatore e la scorsa estrazione c'è stata somma 90 su Bari 82 8 poi su Cagliari ve ne ho fatte vedere di tutti i colori scorsa estrazione c'era 27 81 c'era la 64 74 distanza 10 ma poi se andiamo indietro ce n'è una valanga ok gemello in terza posizione vedete 16 al 90 Cagliari Palermo a colpo tante condizioni con i miei segnalatori poi vi portano alla vincita infatti è arrivato il 90 a Cagliari ma cosa poi ha pagato il mio 90 segreto vi ho portato tre ruote Cagliari Genova e Torino cosa esce questa sera ve l'ho presentato dopo la prima mensile primo colpo era giovedì nell'arco di due colpi noi ci andiamo a beccare due 90 ruote di cui uno in posizione su Genova in quinta posizione regalato regalato 90 Cagliari Genova Torino quarta e quinta posizione in soli due colpi mi porto a casa due 90 secchi a ruota chi l'ha giocato le portate a casa con me due 90 secchi delle tre ruote questo vi deve far riflettere su tre 90 che vi ho dato due sono usciti uno a Cagliari una Genova attenzione perché la previsione si continua perché sapete benissimo che il mio 90 segreto porta vincite multiple quindi chi ha la giocata dei due ambisecchi rimane confermatissima tutto il mese lo sapete anche se è scelambata ma questo è un altro grande risultato da uno studio che non ha rivali è imbattibile il numero uno questo è lo studio numero uno per vincere il 90 a ruota e lo posso dire senza senza timore di smentita perché è un metodo che dà questi risultati che stabilisce le tre migliori ruote per il 90 non esiste da nessuna parte quindi attenzione a continuarlo via whatsapp potete contattarmi per aderire sia ai metodi spia avete visto questa sera 490 a Cagliari e mi sono sgolato ho battuto ogni santissima estrazione vi ho detto attenzione al 90 baricagliari attenzione ai metodi spia zero richieste dal canale zero richieste dal canale è vergognoso dopo che vi dico la previsione ve la do gratis vi regalo il metodo c'è non lo so uno si deve mettere in mutande non lo so più di questo voglio dire che uno che cosa deve fare si deve buttare di faccia per terra non lo so c'è più di questo regalo la previsione regalo il metodo faccio pagare alla vincita avete il metodo che rimane sempre vostro la mia vincita venuta e sto battendo ancora su idea vincente sul supertrist sul gemello vincente sono tre capolavori sono tre cavalli di razza che ogni mese vanno a prendere l'ambo voi pensate che mi arrivano richieste una due vincita venuta idea vincente supertrist gibello vincente due ambi su tre ruote nuova previsione dopo ogni estrazione si paga soltanto la vincita metodi spia stessa cosa il 90 segreto due ambi su tre ruote vincita venuta cosa paga stasera cosa vi ho detto adesso vi faccio vedere un altro botto cosa vi ho detto la scorsa estrazione ambo sotto controllo vi ho detto attenzione al 38 bari cagliari terza e quinta posizione eccolo la in soli quanti colpi perché parte dalla prima 123 in tre colpi 38 terza posizione ruota di bari questi sono tutti i regali questi sono tutti i regali che ogni mese vi faccio sul mio canale tabella numeretti scorsa estrazione ambosecco 83 sulla volta di torino con la convergenza quante vincite arrivano sul mio canale cari amici quante vincite arrivano la tabella ambo sotto controllo 90 segreto i metodi spia i metodi sul diario del mister questa sera il 90 ancora napoli dal milanapoli milanapoli scorsa estrazione 90 a milano questa sera 90 napoli in due estrazioni consecutive questi sono i miei metodi cari amici dove li dovete trovare metodi che hanno anni sulle spalle ho presentato il diario del mister vi ho detto attenzione a milanapoli con quel 90 milano in napoli doppio 90 vinto in due estrazioni consecutive e che dire di ambata big cosa vi ho detto la scorsa analisi estrazione attenzione perché ambata big pagherà di nuovo 82 preso a bari il 5 ottobre 82 preso a cagliari sull'altra ruota il 6 di ottobre e sono già due vincite sarò mai un veggente sarò mai un mago che sarà un indovino questo è studio cari amici questo è studio sul quadro estrazionale costante incessante passione ambata big un metodo da non perdere lo potete applicare ad ogni estrazione questo è il calcolo rima mensile ma arrivano una valanga di vincite contattatemi via whatsapp 348 75 47 715 per chi vuole accedere o al singolo metodo o al pacchetto metodi o alle previsioni a vincita venuto o ai metodi spia potete scegliere quello che volete sono tutti i prodotti vincenti chi ha i miei metodi in mano ha in mano dei gioielli io questa spia 66 di bar che ve l'ho presentata sul canale vi ho fatto vedere la statistica e chi ha il metodo in mano questo 94 ce l'aveva ma non so quanti l'abbiano vinto non ho molta fiducia che mi contatterà una persona mi dirà ho vinto lambo vedremo vedremo cosa succederà vi farò sapere se riesco a pubblicare un cedolino vuol dire che una persona ha vinto quell'ambo ma se non riuscirò pazienza abbiamo regalato un altro ambo all'ottomate come regalamo l'ambo su venezia da un'altra spia che presentai e andiamo avanti così vediamo questo quadro estrazionale cosa ci dice allora intanto bari rimane fortissima le tre ruote del 90 segreto confermate perché c'è torino che ancora molto forte questa sera 72 figura 9 in quinta posizione c'è il 6 col 46 doppia cadenza 6 nazionale state molto attenti perché questo 6 e 3 numeretto unito molto forte per il 90 ma la nazione aveva anche altre condizioni palermo spia 39 molto bella con cadenza 9 in terza l'89 di napoli potrebbe portare la ripetizione anche perché abbiamo la figura 9 in prima 45 scorse estrazioni cosa vi ho fatto vedere mi sembra che era torino genova cosa vi ho fatto vedere la somma 90 di figura 9 infatti a genova è arrivato il 90 a colpo vi ho fatto vedere seguitemi nelle analisi perché ogni analisi una pagina di un libro mettendo insieme le condizioni si arriva al risultato ok quindi guardate poi questa sera 27 figura 9 ancora a cagliari diventa ancora interessante secondo me ci potrebbe essere anche una ripetizione perché sapete che il 90 si ripete le condizioni sono molteplici quindi si potrebbe avere una ripetizione su caldo la sua vita su bari non è detto che non si ripete anche a genova che genova era attesissimo quindi attenzione lo zerato doppio sul milano 40 60 con la spia 48 la stessa cadenza 53 73 spia 2 a firenze con la figura 9 in terza 72 il 66 anche di genova un bel segnalatore poi distanza 2 euro 80 82 34 4 oggi stessa cadenza venezia quindi qualcosa arriva anche in questo quale estrazionale ma attenzione secondo me alla nazionale a bari e chiaramente alle ruote di 90 segreto che questa sera veramente ha dato dimostrazione ancora di essere un grande metodo perché vincere 2 90 su 3 in così pochi colpi non è cosa da poco e siccome la vincita uscita delle prime estrazioni potrebbe arrivare potrebbe arrivare con altri risultati vi ricordo che ebbero 23 nel mese di settembre 26 nel mese di agosto sei su palermo sei su torino quindi tutto può accadere giocate che teniamo in gioco ambo sotto controllo 38 vinto a bari in terza posizione due ambi sulle ruote li teniamo in gioco perché sapete che i numeri si ripetono continuamente non hanno memoria lo state vedendo ve lo sto dimostrando quindi si tiene tutto in gioco e si gioca almeno con me con costanza con pazienza e con fiducia perché i risultati arrivano e ce li portiamo a casa per di più queste ambate questi estratti terminati vinti sono tutti regalati perché ogni mese vado a proporre il 90 segreto l'ambo sotto controllo la tabella numeretti e c'è l'ambata perpetua questo mese il 20 sulla ruota di cagliari prima e quinta posizione sono proposte che vi regalo sono proposte che ogni mese ci vanno portare a casa bellissimi risultati per non parlare di quando vi presento le spie con il 90 che le vado a centrare tutte quante metodi che vi presento come abbata big che il mese scorso ha vinto due volte il 15 questo mese ha vinto c'è due volte l'82 e vi posto e posso continuare e ce ne sono dei risultati quindi mi raccomando